questo buon papariso pronti con la terza parte di calcio punto basket quella dedicata alla serie D non ha giocato alla serie D lo ricordiamo così come il campionato di eccellenza però insomma il nostro focus sul Rimini l'abbiamo ottenuto anche in questo lunedì perché insomma ci prepariamo anche alla volata finale ricordiamo non si è giocato per la disputa del torneo di Viareggio allora andiamo subito a presentare i nostri ospiti iniziamo subito diamo il benvenuto qui con noi al nostro Cesare Trevisani buonasera buonasera a tutti buonasera Cesare poi proseguendo diamo il benvenuto al nostro opinionista Francesco Pancari buonasera a tutti buonasera poi è qui con noi stasera il direttore sportivo del Rimini Andrea Maniero buonasera buonasera grazie dell'invito buonasera e poi diamo il benvenuto al nostro opinionista Davide Baglietta buonasera a Baio ciao buonasera a tutti grazie a Mary allora proviamo a sentire se c'è in collegamento la nostra Donatella Filippi ci sei Donatella? non c'è mi dicono non c'è vediamo se arriverà c'era problemi sul Titano credo ah si c'era qualcosa sul Titano ok ma va detto che aveva probabilmente ma non aveva ancora avuto diciamo la risposta definitiva però dopo vediamo eventualmente se ci potrà raggiungere ci raggiungerà allora parto ovviamente dal direttore sportivo perché insomma il Rimini si è presentato alla pausa con una bella vittoria che vi ha permesso in una giornata l'abbiamo detto anche lunedì scorso in cui sulla carta insomma l'insidio maggiore da affrontare era proprio questa trasferta coraggio per il Rimini invece si è rivelata anche più positiva magari del previsto perché addirittura il Rimini è riuscito ad allungare Sì abbiamo fatto un'ottima gara abbiamo già subito cercato di imporre quelle che sono le nostre caratteristiche ci siamo riusciti e siamo arrivati alla fine con un ottimo risultato quindi siamo molto felici di come è andata quella partita lì contro un avversario forte un avversario che anche in casa ci palleggiava per 20 minuti mi ricordo che ci ha messo anche in difficoltà perché riusciva a palleggiarci dentro quindi siamo andati ripreparati vogliosi come spesso ci capita di fare e quindi il risultato penso sia ineccepibile Quanto era importante anche presentarsi a questa sosta prima della volatona finale perché si riparterà subito con una settimana di quelle diciamo pesanti perché Rimini giocherà sabato mercoledì e poi di nuovo domenica e poi ci avviciniamo sempre al big match di Ravenna tra l'altro è chiaro quando si vince ti permette di affrontare la settimana sempre bene con sorriso quindi si lavora sicuramente meglio e così è stato fatto anche perché i ragazzi si sono sempre allenati forte e allenarsi con una vittoria alle spalle comunque ti permette di assorbire i carichi con sorriso con molta più voglia insomma quindi sicuramente la vittoria aiuta a livello psicologico l'anno scorso in questo periodo si iniziava a costruire Rimini più o meno un po' più avanti qualche mese un paio di mesi non mi ricordo quando aprile maggio credo ma no ma io quando sono arrivato qui ho soltanto guardato alcune cose alcune anche extra calcio insomma però io inizio sempre a muovermi a prescindere ma nella mia testa e poi cerco di portare le soluzioni che più insieme con la società e con il mister sì abbiamo iniziato più o meno credo fosse aprile più o meno credo sì ecco a costruire questa squadra chiaramente con l'auspicio con la voglia di fare il campionato che Rimini sta facendo sai questo è un girone difficile quindi poi si parla sempre di budget di queste cose qui io penso che in questo non c'è non c'è una società a oggi che può fare il Venezia il Parma il Bari il Padova delle passate stagioni quindi per quanto tu possa spendere non puoi essere la matematica di vincere quindi ero sicuro no sicuro ero certo che col lavoro a prescindere da chi ci sarebbe stato perché mi ricordo l'anno scorso come ci sono delle società molto importanti che avevano investito dei soldi importanti mi viene in mente anche la Lianese stessa ero convinto che si poteva comunque fare bene con un presidente che mi ha dato la sua disponibilità totale e quindi credevo fosse possibile fare un campionato di livello insieme a altre squadre perché sapevo che ci sarebbero state delle squadre delle strutture delle società tipo Aglianese Lentigione Prato Ravenna Forlì Alcione Alcione stesso che era partito con insomma conosco l'ambiente conosco i presidenti e loro sono andati giù forte quest'anno per fare una squadra importante però sai ho detto siamo tutti sullo stesso livello se facciamo le cose per bene lì davanti ci possiamo stare ecco così mi sono ho pensato nella mia testa e per adesso le cose staranno in un certo modo Ecco Cecere poi dopo lo chiediamo il diretto interessato ma secondo te quali sono le cose di cui deve essere più contento Andrea Maniero per quanto riguarda il cammino percorso in questo quasi anno riminese Dunque nel Rimini la sensazione è che le cose siano tutte nel posto giusto e quindi quando verrà il presidente sarà doveroso fargli i complimenti è venuto il mister tre o quattro settimane fa ed era doveroso riconoscergli lo straordinario lavoro fatto ed è giusto dire del DS di avere onorato quello che disse dal primo giorno cioè di guardare ad una squadra composta da valori tecnici ma non solo e quella sua voler osservare le cose da fuori all'inizio è tornato nella sua attività perché poi quello che è avvenuto ha quella matrice che lui voleva cercare quindi di avere scelto proposto messo insieme e non è solo scegliere i giocatori al mercato e anche poi gestire durante l'anno delle situazioni che competono in parte all'allenatore ma competono in grande parte a chi svolge il ruolo di maniero quindi per me fino a questo momento è difficile trovare un passo falso un errore una cosa negativa in questo momento il rimi dà proprio la sensazione di avere tutte le cose al loro posto ecco hai detto subito Andrea quando si parlava della costruzione della squadra io prenderò dei giocatori guardando prima l'uomo prima la persona e poi il calciatore e così hai fatto vuol dire che si costruiscono così le squadre vincenti se i risultati sono questi no no perché io ho giocato a calcio e ho vinto anche con un ambiente bruttissimo con calciatori che non si guardavano in faccia quindi non c'è una regola il calcio è bello perché non c'è una regola io volevo solo creare qualcosa che mi appartenesse un po' per come sono fatto io questa diciamo era la tua regola però quella di dire sì sì ma io credo che il calcio si può vincere in tanti modi buttando la palla lì o giocandola ma non c'è non c'è una realtà una verità nelle cose si può vincere con tra virgolette ragazzi poco per bene si può vincere con ragazzi educati si può vincere in tanti modi quello che conta secondo me è la società è la società che strada vuole percorrere e se si combaciava con il mio modo di pensare io sono ho detto di sì anche a Rimini perché comunque ho trovato delle persone che la vedevano col mio pensiero no? ed è un pensiero di ragazzi ragazzi educati ragazzi comportamenti giusti dentro il campo fuori dal campo che non trovano il mezzuzzo per vincere la partita ma facendo una corsa in più due corsi in più andando contro anche una scelta sbagliata dell'arbitro senza lamentarsi senza lamentarsi se magari un giorno manca l'acqua dico una banalità voglio dire apprezzando il lavoro del magazziniere apprezzando il lavoro del team manager dell'addetto stampa ecco dei tifosi sempre con i comportamenti questo è quello che ho trovato di chi è sopra di me che è il presidente Rota che è così allora mi è piaciuto lavorare in questo in questo modo però non si vince così cioè si può vincere anche in altri modi certo è soltanto un modo di vedere le cose a me piace così quello scelto da te insomma e questo è sposato a pieno intanto c'è Donatella Filippi che andiamo a salutare eccoci mi sentite? ti sentiamo sentiamo anche un ritorno però però va bene ti sentiamo ti sentiamo perfetto questa settimana ci vedi e ci senti vero Donatella? niente Donatella Filippi ha salutato arrivederci Donatella un giorno ci inviti a casa tua che vogliamo dare un'occhiata con il computer porteremo un esperto informatico con noi per cercare di risolvere qualunque tipo di problematica tecnica allora stasera vi vedevo ma non vi sentivo ah ecco ecco allora si spiega adesso adesso ci senti però adesso vi senti sì buonasera a tutti scusate ritardo benissimo non ti preoccupare sappiamo che è per lavoro quindi sei più che giustificata hai subito una domanda per il direttore sportivo? allora ho sentito poco di quello che avete detto fino adesso quindi non so se magari ne faccio una io così intanto lei ne pensa va bene così rompi il ghiaccio rompi il ghiaccio è una cosa che ho raccolto da tante persone questa settimana e non ho saputo rispondere quindi magari rispondiamo stasera un sacco di gente mi ha chiesto visto che il campionato è fermo proprio perché c'è la rappresentativa della Serie D allenata da Gianni Kebber mi pare che fa che partecipa al torneo di Viareggio e tutti mi hanno mi chiedono ma come mai non c'è nessuno del Rimini una squadra che sta facendo il miglior risultato fra tutti i gironi della Serie D e non mi pare ci siano giocatori del Rimini beh è per un discorso di regolamento credo perché possono giocare il 2003 il 2004 e noi i nostri 2003 sono tutti professionisti quindi non possono andare vedi che una risposta c'era almeno abbiamo è giusto perché intanto magari se lo sono chiesto tantissime persone me l'hanno chiesto quindi c'è questa motivazione comunque so buon per i Rimini che può continuare ad enelarli anche questa settimana esatto guardando a parte Denba che è nato con la nazionale in Turchia a fare un torneo quindi quindi il nostro nazionale ce l'abbiamo anche noi Donatella vuoi fare una domanda? Sì sono pronta vai sono anche proiettata verso il futuro dico se e se succederà che Rimini dovesse fare il salto di categoria volevo chiedere al direttore sportivo se ha costruito questa squadra pensando di aver già posto le basi per un ipotetico campionato di Serie C no abbiamo abbiamo costruito questa squadra per fare un campionato di D importante e poi loro stanno dimostrando di essere ragazzi probabilmente pronti anche per fare altre categorie lo dimostra il fatto che molte società anche se sono interessate dei nostri giovani e comunque sia qualche vecchietto tra virgolette è una categoria che ha già fatto e ha fatto anche ha fatto anche bene quindi poi però per chi mi conosce sa Donatella che io penso all'allenamento di domani e poi a quello di dopo domani e poi sabato la partita col mezzolare quindi quello che sarà lo vedremo sicuramente più avanti se come dici te le cose si si avverano e io me lo auguro tantissimo però in questo momento mi sembra prematuro mi sembra presto per pensare a altre cose se non all'allenamento di domani abbiamo fatto da luglio questo tipo di aggiornamento qui e vogliamo continuare sicuramente a farlo poi ci sono dei giocatori secondo me di valore mi fa piacere perché vuol dire che hanno dimostrato di poterci stare insomma alla grande c'è una domanda Sì Scusa già che ci sono posso fare visto che non fa un passo avanti come già immaginavo un passo indietro invece ricordo come molti ricorderanno tutti che Gaburro non era la prima scelta la scorsa estate per il rime non è un segreto non è insomma non sveliamo niente di nuovo quanto sei contento che alla fine sia diventata la prima scelta allora a parte che mi spiace contraddirti per la seconda volta ma non c'è mai stata una prima scelta i nomi li sapete tutti li sa anche il mister Gaburro c'erano 3-4 allenatori con i quali mi sarebbe piaciuto lavorare come ci sono anche tanti giocatori magari che sono arrivati perché magari qualcuno non è venuto qualcuno perché poi quando si costruisce una squadra tu hai in mente 20 giocatori e di quei 20 magari ne prendi 8 gli altri vengono strada facendo e anche il dio palla magari ti dà delle soluzioni migliori di quelli che avevi pensato tu questo è sempre successo però era quello che intendeva Donatella nel senso che erano venuti fuori dei nomi no 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 ma c'erano 3-4 nomi io ti posso raccontare un aneddoto fortunato per noi fortunato per il mister Gaburro mister Gaburro io avevo in mente di chiamarlo insieme a altri 2-3 poi succede che mi chiama un agente quell'agente è stato il mio agente per 20 anni e mi dice ci parli col mister Gaburro mi dice il mio ex agente io gli ho detto avevo già idea di chiamarlo no vai tranquillo tanto so che se anche ti chiamo io e tu hai in testa un'altra cosa non lo prendi perché sei fatto così col mister Gaburro siamo stati fortunati perché ci siamo trovati in vacanze insieme in vacanze insieme in Puglia in Puglia dove io quella sera andava con la macchina eravamo in diretta lui dalla macchina ci parlava sto andando incontrando ma vi racconto anche che il mister era a fianco a me quel giorno lì quindi praticamente c'era il telefono la moneta lui era lì sto andando e ce l'aveva lui si stava mangiando il gelato c'è con i miei figli c'era la sua compagna ecco questo aneddoto non lo sapevo ma io dalla Puglia poi te pensa come sta dire le bugie bene dalla Puglia faccio poche scusami però dopo ti faccio tu eri in auto avevi il mister praticamente di fianco così stavo andando da lui no sto andando dal mister chissà cosa mi dice intanto c'era il mister lì che se la rideva più o meno è andata così bene ce lo segneremo ce lo segneremo perché siamo poco vendicativi per questa forma poi questa accoppiata no io credo che le cose quando devono capitare poi succede che io vado in quel posto lì da tanti anni no e un giorno lo chiamo e gli chiedo dov'è e praticamente era a tre metri che mi parlava al telefono e stessa spiaggia è stata una cosa carina e abbiamo avuto la fortuna di passare molto tempo insieme a parlare di calcio ma lui è stato un po' più fortunato o io sono stato o noi siamo stati più fortunati perché altri allenatori ho avuto poco tempo ho preso la macchina andavo stavo una mezz'ora un'ora invece lui sono stato una settimana quasi tutti i giorni immagino il tripudio delle moghi contentissime che dicono una settimana all'anno vi abbiamo invece non puoi parlare di calcio sotto l'ombrellone io porto ma poi giro io non faccio sì ho poco lì mi dispiace anche per i bambini perché ci gioco anche poco ma da lì si può è una zona fertile quella lì dove tu puoi muoverti e trovi un sacco di persone è successo che poi ci siamo piaciuti in quel momento lì ma poi come dico sempre un allenatore lo conosci solo quando ce l'hai in casa pregi e difetti e devi imparare a conviverci devi imparare a plasmare te stesso è come la moglie praticamente l'allenatore mi stai descrivendo e ho avuto una piacevole sorpresa perché ho conosciuto adesso non lasciamo stare la persona che lui anche basta un po' burbero alle volte ma parlando di campo una persona un allenatore non proprio schematico come io pensavo un allenatore anche che plasma che cambia che sa modificarsi è una cosa che secondo me è una cosa che mi piace quando uno non è fossilizzato solo in una cosa e di lui pensavo invece che fosse era quella la cosa che un po' più mi frenava per quello non ho detto subito sì è quello giusto per noi però in quella settimana lì mi è servito molto e quindi insomma i primi schemini li hai visti praticamente sulla sabbia immagino loro due con disegnare Gaburo comunque l'ha dimostrato quello che sta dicendo cioè non sono cose che in maniera il direttore dice così cioè Gaburo l'ha dimostrato sul campo quella duttilità che la serie D sia per avversari sia per terreno di gioco no? sia cioè qui si incontrano dei campi come il nostro sintetico grande e vai a giocare a fanfulla dove il campo è piccolo brutto piuttosto che dall'altra parte insomma quindi il sapersi a modificare e plasmare a quello che chiede il campo spesso e volentieri certe squadre non rispondono a quello che chiede il campo vanno avanti il campo chiede altre cose quando il campo ha chiesto altre cose secondo me Gaburro le ha subito messe in pratica e quindi credo sia giustamente una cosa che arricchisce un allenatore ma non solo che arricchisce tutta la squadra poi alla fine chi è stato più fortunato il Rimini a trovare Gaburro o Gaburro a trovare il Rimini Cesare te lo dico dopo l'ultima giornata di campionato chi è stato più fortunato però perché l'opera non è finita certo il Rimini ha tanti pregi ha tante ha preso diciamo ha dimostrato tanto in questo campionato fin qui i ragazzi i giocatori sono stati molto bravi tutta la società è stata molto brava però però il calcio è maledetto cambia il vento in un attimo e tu devi imparare a veleggiare con tutti i venti io ho un timore grosso nel senso che vedo purtroppo i dati di questo maledetto covid che continuano ad impennarsi e sappiamo bene quanto il covid ha condizionato i campionati e non è banale l'organizzazione societaria rispetto a queste cose qui che vanno tenute ognuno in conto quindi io credo che Rimini sia un bel posto dove giocare dove allenare dove fare direttore sportivo dove andare allo stadio a vedere le partite ma è qualcosa che bisogna meritarsi con i comportamenti con la professionalità ecco Rimini deve crescere da questo punto di vista deve imparare ad essere una una città di calcio a livello professionistico in modo stabile lo siamo stati per molti anni però negli ultimi dieci anni siamo caduti troppo spesso e questo ha fatto dei danni molto grossi ecco cominciare a crescere tutti quanti insieme questo è stato un anno importante è chiaro che tutti vogliamo che arrivi un certo risultato però questo gradino fatto quest'anno secondo me è molto importante è molto significativo allora adesso andiamo da Bike Service un amico della nostra trasmissione e poi delle domande che arrivano da casa continuate a farcele perché le faremo al nostro direttore sportivo Manier Bike Service non è solo per due ma anche per quattro ruote assistenza auto moto e scooter multimarca centro revisione sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi aperto anche il sabato mattina e pomeriggio e da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca Bike Service è in via Emilia 183 vicino alla nuova fiera di Rimini telefono 0541 74 35 58 spazio le domande dei nostri amici da casa Gabriele chiede allora ciao Bonfa vorrei chiedere a Maniero se lui si sente pronto a fare il direttore sportivo per la serie C ma io cioè non ha scritto a Gabriele non è che no 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 io non ho una risposta da dare in questo perché poi è quando mi dicono bisogna prendere giocatori che vincono i campionati per vincere i campionati io sono totalmente in disaccordo perché prima o poi qualcuno avrà vinto il primo campionato quindi diventa può un allenatore allenare in C non ha mai allenato in C no anche quello perché c'è stato un anno in cui un allenatore ha allenato prima volta in C e ha fatto bene è tutto così il calcio io penso che bisogna bisogna essere se stessi bisogna avere le competenze bisogna darsi da fare bisogna lavorare bisogna girare bisogna il calcio è uguale da tutte le parti con caratteristiche diverse sui giocatori mi viene in mente quando andai nel girone F dal girone C che facevo direttore andai nel girone F un girone fortissimo all'epoca perché c'erano dieci squadre che avevano budget che superavano il milione di euro e mi dissero eh ma questo campionato qua è diverso dal C e io ho detto no i giocatori sono sempre quelli sono i giocatori di D e prendi comportamenti giù infatti mi ricordo abbiamo fatto un campionato straordinario poi perso l'ultima giornata per un calcio di rigore però io sono molto semplice nelle cose io credo molto nel lavoro credo molto nei comportamenti e per me uno può fare tutto insomma io ho giocato a calcio una vita e qualcuno mi ha dato la possibilità di fare il professionista e poi l'ho fatto bene è così la vita è così insomma il calcio è questo è bello per questo perché tanti è giusto che facciano delle domande però io credo che bisogna si da fare nella vita posso leggerci un retropensiero nel messaggio secondo me il messaggio voleva dire era anche un po' una speranza di continuità cioè nel chiedere al direttore se si sente pronto c'era l'augurio che questo gruppo che ci piace così tanto che ha la faccia bella pulita come piace al direttore sarebbe veramente bello che continuasse tutti insieme certo prima 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 di entrare poi bisogna vedere il risultato però dicevo che una delle prime cose che mi ha stupito di questo gruppo è stato il fatto che forse per la prima volta noi non eravamo abituati a vedere una società che non fa mercato nella nella finestra e invece il direttore mi ha detto che lui ha più o meno sempre fatto così quindi è una delle sue caratteristiche e io ci vedo questo in quel messaggio che a noi tifosi del Rimini piacerebbe la continuità una volta tanto non vedere stravolto il parco giocatori i dirigenti che tanto bene stanno facendo io ci leggo anche questo insomma Cesare? No volevo siccome mi ricordo quando venne qui in trasmissione all'inizio dell'anno disse che fondeva molti motore le macchine a forza di girare per partite la mia domanda era se negli ultimi due mesi vede più partite di serie C o partite di serie D vedo anche partite di eccellenza perché comunque abbiamo costruito una struttura anche per io dei collaboratori che vanno anche per me e dopo ci riuniamo per vedere capire dopo prendi la macchina e vai tu per vedere per fare la scelta definitiva quindi per me le partite vanno viste ne vedo tante di C sì e ne vedo tante di D poi in base in base poi sempre a quello che è l'obiettivo che sarà la società che ti dà che ti pone tu ti riesci a muovere su più fronti hai una conoscenza un po' più sì una conoscenza devi capire se puoi andare su certi tipi giocatori se puoi andare su altri e cercare di valorizzarli tu insomma quindi vedo partite di tutte tutte le categorie la A vi dico una cosa l'A non la conosco ultimamente mi sono accorto che i giocatori di Serie A mi sono persi di vista non ne conosco neanche cioè a parte quelli che conosciamo tutti non vedo più partite di Serie A beh ieri Andrea ha segnato un cazzo quindi c'era anche una storia diciamo diversa una bellissima favola un'altra domanda quante squadre hanno messo gli occhi su Averi può ambire ad altri palcoscenici allora tanti sono venuti a vedere lui non solo lui e lui è uno di quelli che stanno seguendo molto e la cosa mi fa molto piacere perché fino ad un anno fa non giocava e quindi è stato proprio credo uno di quei giocatori che grazie ai suoi comportamenti grazie al mister grazie allo staff tecnico è riuscito ad alzare il suo livello ok e quindi ci sono molte squadre che stanno venendo a vedere però quando sei primo in classifica comunque vengono a vedere altri altri i nostri giovani sono molto tenuti in considerazione da tante società questo sì e anche qualche meno giovane vi devo dire perché poi negli arco degli anni ho visto che un giocatore che comunque ha 25 anni 26 può andare in Serie B quindi mi è già successo mi ricordo Alexi Ferrante che presi da Labano che non giocava in D dopo a novembre sono dovuto darlo al Brescia perché poi ci sono quei giocatori che si perdono un pochino ma le caratterie di qualità ce le hanno i ragazzi per fortuna o purtroppo non sono delle macchine che tu metti la benzina e vanno e fanno quel tipo di chilometri i giocatori hanno un sacco di problemi perché sono degli esseri umani e alle volte sono stabili bisogna mettere sulla strada giusta tanta verità e lo dico su personalmente perché ho visto la differenza mia personale da anche solo l'anno scorso a quest'anno nulla da dire verso magari il mio preparatore dell'anno scorso competente bravissimo quest'anno io ho una sorta di nonno una figura una figura che mi è proprio a cuore io glielo dico sempre sei terapeutico e arrivare in campo che mi dà le possibilità che per me può essere la maglia giocare 90 minuti anche se sbaglio non c'è il ti tolgo quindi è verissimo è verissimo per Averi anche qualcuno della Serie A mi sento di dire una cosa perché adesso si parla io penso che bisogna veramente pensare a oggi e non tanto a Doma perché il calcio tanto ti dà e tanto ti toglie in un minuto in un secondo voglio dire in un secondo ti cambia la vita dico sempre ai giocatori che magari hanno un po' il musetto perché novantesimo non entrano entrano a novantunesimo hai cinque minuti di recupero cinque minuti di recupero ti cambia la vita è successo a tanti e questo in positivo e anche in negativo e lo stesso è per il percorso del Rimini io credo che loro per fare qualcosa di diverso per essere più gratificati un domani dal punto di vista economico soprattutto perché poi il giocatore finisce presto io non sono ipocrita e dico le cose come stanno uno gioca a pochi anni e deve monetizzare al massimo per quelle che sono le sue qualità e poi trovarsi le sue soddisfazioni di campo ma quelle ce le ha a prescindere loro devono concentrarsi oggi al Rimini per loro il Rimini è il Real Madrid o la Juventus per quello che uno tifa e allora poi arriveranno certe soddisfazioni e se non fanno questo tutto finisce subito non avranno né in squadra di Serie A né di B né di C che li vuole quindi devono essere concentrati a quello che ha oggi stavo pensando che Andrea dovrebbe essere proprio scarso come giocatore perché di testa di testa è vero si dice c'ha veramente una testa che va non so se c'è la oggi o se la viva però ha la testa che hanno i professionisti quelli veri cioè quelli che non era male però io me lo ricordo adesso con questa testa qui questa è la testa diciamo il tipo di ragionamento no questo rispetto per se stessi per il lavoro per la professione è una cosa che raramente tu trovi nelle categorie più basse questa testa qui la trovi ai vertici la trovi quindi stavo riflettendo sul fatto che evidentemente doveva essere parecchio scarso insomma dal punto di vista se no dici che di testa aveva la testa per la serie A secondo me sì perché io guarda io sono un po' come lui in certe cose cioè l'esperienza che ho vissuto secondo me quello che dice lui poi lui dice che nel calcio si vince in tanti modi probabilmente è vero però secondo me quell'alchimia quell'alchimia che si è creata del Rimini è molto più se vai a vedere l'alchimia vincente che porta veramente a un traguardo piuttosto che quelle circostanze dove non si guardano in faccia ma comunque la qualità o comunque la carrosi di quando tu vai in campo ti porta comunque a raggiungere i risultati io sono molto in sintonia col suo modo di ragionare ed è un modo di ragionare che io da qui sto elevando sin dalla seconda giornata con la bagnolese di questo me ne prendo atto perché certe cose le ho viste da subito poi ha ragione anche Cesare e ha ragione anche Andrea che non bisogna spingerci troppo in là nel senso che ancora c'è veramente tanto da fare e a prescindere dal giudizio che per me resterebbe comunque sugli uomini positivo a prescindere è anche vero che quello che conta è il risultato e quindi riuscire a chiudere una stagione così bella dal punto di vista del messaggio che tu hai lanciato con una vittoria sarebbe un esempio da seguire altrimenti rimane soltanto una bella cosa quindi è bene visto che mancano comunque tante tantissime partite rimanere col pallino a fuoco su quello che c'è da fare adesso come dice Andrea dopo domani o domani nell'allenamento piuttosto che guardare troppo in là ma certo però è chiaro che insomma il tifoso sogna il tifoso vuole sapere anche del futuro cioè ci sta però rimaniamo sul pezzo vado da Donatella Donatella tu ricordi bene Maniero in campo che forse sei quella che l'ha visto di più sì sì ho fatto anche delle fagelle io che media che media ti prendeva Maniero è stato anche un campionato discreto quello a Tavarino quindi direi dei bei voti devo dire che dribbling meglio con le parole che in campo perché con le parole a dribbling andiamo benissimo però ho stoperto che abbiamo una cosa in comune quella che non seguiamo il calcio minore della serie A siamo proiettati verso le categorie più intime diciamo così fammi un'altra domanda al DS visto che nessuno guarda al futuro io sì io sono come tifosi praticamente guardo al futuro e gli volevo chiedere quanto guarda con distacco le vicende societarie quanto guardo con distacco le vicende societarie è chiaro che ti interessano no ma c'è chi è predisposto per queste cose qui io ne sono dentro ne sono parte ok però abbiamo un direttore generale molto bravo in questo abbiamo un presidente top in questo io una volta che ciò non lo dico per ma tanto lo sa una volta che noi abbiamo Alfredo Rota noi siamo a posto poi se vogliamo aggiungere che bisogna completare che bisogna rafforzare tutte queste cose qui e io devo essere bravo a viaggiare su due binari uno perché abbiamo una squadra che deve finire un campionato deve stare più che tranquilla e serena perché con un presidente del genere si viaggia con un filo di gas parlo di aspetti economici parlo di aspetti di essere precisi nelle cose cioè ripeto se c'è bisogno di andare fuori a mangiare presidente dobbiamo stare un po' uniti e lui pronto subito quindi non non abbiamo nessun problema io cerco di sempre di viaggiare su due piani con un orecchio sto di qua e vediamo cosa succede nell'altro bisogna essere concentrati a quello che è Mezzolara in questo momento e i nostri giocatori devono essere concentrati e lo sono in questa cosa qui perché vedono che dietro c'è una società forte in tutte le cose in tutti gli adempimenti in tutto quello che è stato chiesto l'allenatore ha fatto delle richieste è sempre stato accontentato quindi la società è forte in questa cosa qua per quanto riguarda il futuro mancano ancora dei mesi se si vuole parlare poi di una costruzione di una squadra di una costruzione di un gruppo è chiaro che io non sono fermo e parlo con i giocatori attuali parlo con le società che vogliono dei nostri giocatori però bisogna sempre stare con i piedi per terra e io cerco di essere bene con i piedi per terra perché ne ho visti tutti i colori anche il fatto che faccio un esempio abbastanza banale rimane Andrea Maniero non rimane domani dico una cosa arriva una società e prende tutto e Maniero va via arriverà che porteranno quindi non mi faccio tanti io so che fino a giugno devo dare il 100% e do il 100% che è la garanzia migliore per non avere un ingaggio buono che il prossimo anno quello di dare il 100% ogni giorno esatto in campo e fuori ma per capire visto che noi siamo in Serie D che è una categoria non professionistica ma se una società è interessata da un nostro giocatore sì fattivamente sì cioè come sarebbe la transazione allora la transazione è semplice allora supponiamo che il sogno sia veri il sogno di vincere questo campionato che nessuno mi ha chiesto di vincerlo perché poi sento sempre no ti hanno chiesto adesso ho fatto una battuta ma è chiaro che chiunque parta per fare uno sport parte per vincere poi arrivi secondo terzo penultimo quello lo sa soltanto il signore bene parliamo di cose tecniche vinciamo il campionato come vincente ha il diritto il diritto di tenere di fare un triennale a Kevin Avery un triennale ad Andreis un biennale a Pietrangeli parlo di giocatori magari che non hanno mai fatto i professionisti oppure comunque ha il diritto di prelazione fino al 10-15 di luglio non mi ricordo a livello tecnico io posso aspettare fino al 10 luglio per fare qualsiasi tipo di contratto a un giocatore se non glielo faccio lui è libero da un'altra parte lui è libero dopo il 10 luglio ok e quindi io volessi tenere non quelli in prestito parlo dei nostri giocatori ah ma certo sì in prestito poi torno per dire lo stesso vale per i vecchi per gli over diverso invece per chi ha già fatto il professionista io ho la prelazione fino al 10 ma non posso fargli un contratto e vi è raccomandato cioè hai la prelazione in teoria anche per fargli il contratto e poi venderlo sì 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 esatto ho risposto giusto più o meno sì certo si era quella che mi interessava proprio per questa cosa qua c'è un'altra cosa un'altra curiosità che credo traspaia nelle chiacchie con i tifosi e anche degli addetti ai lavori si fa un gran parlare della differenza fisica fra i due campionati e non parlo di questo Rimini cosa fisicamente potrebbe fare in Serie C parlo per la tua esperienza di chi vede le partite di Serie C e vede quelle di Serie G ecco fino a qualche anno fa oggettivamente questa differenza era secondo me abbastanza marcata oggi meno o c'è ancora dal punto di vista della qualità fisica per competere in un altro campionato allora no per fare categorie superiori deve avere un corpo forte non importa i centimetri io parlo sempre di gambe glutei e questo ti permette di reggere l'urto faccio un esempio sempre non so Cassano ce lo ricordiamo tutti non è altissimo ma è un pezzo di legno cioè difficile da spostare quindi per me è un giocatore strutturato per fare qualsiasi categoria poi se si va su GECO GECO è un metro 95 e quello la struttura ce l'ha di suo oppure deve essere proprio un fenomeno può essere anche 60 kg ma li salti tutti ed è pieno il capozzo del rugby esatto è un quarto dei gallesi ma non lo pincano no 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 cioè il calcio è bello perché i più forti giocatori del mondo fino adesso sono stati tutti piccolini Maradona Messi Pelé hanno fatto la storia del calcio e non sono voglio dire non sono l'immaginario di atleta di due metri scolpito nella roccia no il calcio è bello perché si gioca con i piedi e ancora a differenza la fa la tecnica è chiaro che su di categoria a livello fisico visto che se giochi in serie C tecnicamente non sei da A si presuppone questo il fisico diventa importante ma non è determinante è solo importante allora devi avere il giusto mix come Rimini di quest'anno credo che sia un giusto mix di struttura e di tecnica allora qui vedo intanto Danny che ci scrive complimenti e maniere alla società avete allestito una gran bella squadra tosta davanti rocciosa centrocampo impenetrabile indifeso danni da rimini bellissimo una bella squadra gran gran bel messaggio allora c'era un'altra un'altra domanda e chiedono buonasera Bonfa vorrei chiedere al DS se c'è un reparto dove non è riuscito a realizzare i suoi obiettivi grazie Gabriele no onestamente come dicevo prima io sono contento di tutti cioè poi magari avevi un obiettivo non è arrivato perché non voleva venire a Rimini e allora avevi cinque avevi cinque soluzioni e hai scelto quella che più ha voluto venire a Rimini e sicuramente renderà di più di uno che magari non vuole non vuole venirci ecco quindi poi sono più o meno tutto il stesso livello ogni giocatore è stato scelto e valutato oltre al fatto che magari tu ci esci ci parli per capire com'è più volte ma poi visionato con l'allenatore vicino centimetro per centimetro perché volevo che lui fosse contento di tutti col suo modo anche di intendere il calcio e comunque si è stato coinvolto sempre tutta la società dal presidente direttore generale insomma ai collaboratori vicini parlo sempre di staff tecnico gli stessi portieri voglio dire li abbiamo visti insieme perché vi dico una cosa io di portieri ci capisco poco perché secondo me è un ruolo a parte è un ruolo difficilissimo dove c'è una tecnica nel ruolo che chi non l'ha fatto il portiere non potrà mai capire io capisco se paro o no però dopo il preparatore dei portieri che l'ha fatto l'ha vissuto mi sa dire tante piccole sfumature quindi è stato coinvolto proprio tutto l'ambiente della costruzione della squadra e io mi piacciono tutti una domanda invece che faccio sempre incrociando le dita se dovesse arrivare la promozione in percentuale quanto della squadra attuale potrebbe rimanere? allora mi hai fatto la domanda di prima posta in maniera diversa allora prima cosa bisogna vedere chi vuole rimanere ok seconda cosa anzi prima cosa bisogna vincere questo campionato e voglio dire noi faremo di tutto per provare a regalarsi questo lo diamo per scontato e diamo anche per scontato che uno voglia rimanere diciamo perché è chiaro che poi dopo se invece uno vuole avanti a via io penso che questa squadra abbia tanti giocatori che possono fare questa categoria qui dico 70% 80% potrei dire anche il 90% è tanto e non può dire di meno no perché una squadra che oggi la squadra deve anche respirare la possibilità di una continuazione poi per carità ci sono i giocatori che sposano la serie D perché credono sia il contesto dove stanno meglio dove guadagnano magari anche di più però fondamentalmente un giocatore deve comunque aspirare a poter dare una continuità a salire di categoria chi non vuole salire di categoria cioè chi l'ha fatto solo per scelta quindi la domanda è lecita però la risposta è portata ho conosciuto pera pera era l'emblema del giocatore che vive il giocatore che quando venne qui scelse di giocare proprio in serie D e allora è un conto però e andando su rimase in serie D certo rimase ma perché l'aveva fatto quello discorso economico lui me l'ha detto io in serie D guadagno molti più soldi quindi gli è lecito però è anche bello pensare che una squadra sia composta di giocatori che ambiscono a crescere da un punto di vista sportivo più ancora che mettere davanti l'aspetto economico però Roberto la cosa bella se ti ricordi abbiamo parlato del fatto che il direttore è qua con noi da circa un anno e circa un annetto fa ci fece la stessa identica percentuale quando gli chiedemmo quanto di quel rimini dell'anno scorso avrebbe potuto rimanere nell'anno dopo e io mi porto a casa la soddisfazione che adesso la percentuale è la stessa ma si è completamente ribaltata dopo l'anedito del telefono è finito tutto è finito tutto credibilità finita sono dei tacchi sa le fare benissimo se andiamo a vedere i giocatori che ci sono in questo momento abbiamo detto avete detto voi che tanti sanno richieste da categoria superiore giusto? io vi sto dicendo che se fanno male le prossime dieci partite sparisce tutta questa richiesta e i giocatori lo sanno secondo giocare a Rimini la Lega Pro deve essere il sogno della vita per me cioè la vivo io come la devono vivere loro certo ok e poi andiamo a vedere i giocatori molti di questi l'hanno fatta bene la categoria superiore ecco poi molti sono giovani e sono di sotto anche professionisti che quindi sono già inseriti in un contesto professionista e questo volevo dire poi dipende solo da loro anche perché adesso sempre con le dite crociate e tutto quanto c'è la prospettiva che il prossimo anno torni una partita che per Rimini significa dieci partite venti trenta un campionato comunque anche Luca Zingaretti ha detto che tornerebbe volentieri a Rimini soprattutto quando aveva diciassette anni prima di intraprendere la carriera da attore insomma che l'ha portato anche a interpretare il commissario il commissario Montalbano allora andiamoci a vedere questa immagine di questa maglia con la scritta Zingaretti appunto la maglia 7 che il Rimini ha regalato insomma proprio a Zingaretti per i suoi trascorsi anche in bianco rosso e ha detto una bellissima frase Francesco ha detto che è come tornare a casa tornare a Rimini per lui penso sia ma non è la prima volta che lo dice comunque io sono andato un pochino a guardarmi le prime interviste su Repubblica l'aveva fatta nel 2002 la prima volta che è uscito questo suo ricordo di Rimini poi l'ha rifatto nel Corriere della Sera una decina d'anni dopo quindi c'è una cosa che evidentemente lui ha dentro l'impressione appunto che sia legato a quella cosa perché è uno di quei ricordi che ti porti da quando sei giovane e che tu custodisci un pochino come quella cosa che ti sarebbe piaciuto fare e che magari è rimasta un pochettino lì quindi è una bella cosa è una bella cosa per i Rimini prima prendevo in giro Andrea che gli dicevo tu oggi vieni qui e ti abbiamo annunciato da un paio di giorni e ieri il Digi Peroni ti ha sotterrato perché è andato aspetta non ci ageriamo è vero però adesso non ci ageriamo perché qui nello territorio ci va su tutta la Romagna ce la battiamo bene adesso ci va su tutta l'Emilia Romagna quindi ti vedono anche da da Piacenza insomma non è più una roba qui del territorio solo Romagna adesso anche Emilia quindi è vero è vero allora andiamo dal quartino il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino a pranzo a cena da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio Osteria Il Quartino tutta la qualità romagnola Allora eccoci qua torno da torno da Donatella ah c'è un tifoso del Mezzolara che ci scrive prima questo buonasera complimenti per la trasmissione sono tifoso del Mezzolara e spero che domenica non ci asfaltiate troppo Luca di Budrio Luca però attenzione perché si giocherà sabato sabato perché in anticipo alle 15 sabato tra l'altro ne approfitto per ricordare che questa settimana c'è un'ulteriore nuova promozione oltre a quelle già applicate anche alcune insomma nelle scorse settimane quindi l'invito è quello di acquistare il biglietto in anticipo in prevendita ma c'è anche una promozione che riguarda poi la partita con la partita quella successiva con uno sconto abbinato a chi comprerà il biglietto in prevendita per questa gara quindi noi rinnoviamo l'invito perché insomma sabato vorremmo vedere un Romeo Neri all'altezza del rendimento di questa squadra che è il rendimento da capolista quindi insomma io mi aspetto di vedere un bello stadio sabato e magari di vedere anche l'amico Luca di Budrio che possa venire a vedere il suo mezzolara all'amico Luca va riconosciuto che il mezzolara è veramente la squadra rivelazione del campionato è vero ha fatto un grande campionato è vero ha anche battuto all'andata quindi non è che abbiamo da fare galletti troppo ci sarà il dente avvelenato e sarà un'altra di quelle partite toste ma adesso lo diciamo perché il ministro Gaburo ha detto qui bisogna stare attenti perché si scivola quando non ci si aspetta di scivolare però insomma col mezzolara Rimini è già scivolato una volta e deve stare attento ma questo lo sanno i giocatori lo sa la squadra come ci diciamo spesso ci sono due tipi di squadre quelle che tu hai battuto all'andata e quelle che ti hanno battuto questa è quella che ci ha battuto e quindi noi no no quindi noi siamo molto rispettosi di questa squadra che sta facendo un campionato straordinario è vero che ha dei valori importantissimi noi ne siamo consapevoli quindi sicuramente andiamo in campo anche un po' col dente avvelenato ma in maniera sportiva ovviamente e consapevoli che affrontiamo una squadra di tutto rispetto con dei giocatori che vanno forte noi dobbiamo andare più forti di loro senti non è facile perché non è facile ma quanti punti serviranno per vincere il campionato guarda non hai più palida idea perché 88 sopra 88 pensi? sì penso di sì quindi fra 88 e 90 o più di 90 addirittura guarda io mi sono io me lo so io a me piacciono le proiezioni a me mi si è incastrata fra 88 e 90 per vincere il campionato comunque facciamone più di 90 e così non ne parliamo più ma invece mi piacerebbe sapere dal direttore che cosa parlare del Ravenna di questa squadra che diciamo è stata capace di tenere un passo straordinario ma della quale non riesco ancora a percepire l'identità dipende molto da alcuni giocatori da alcune situazioni sa fare molto bene certe cose poi si dimentica di saperle fare bene cominci a prendere meno gol e assegnare di più o al contrario che idea si è fatta del Ravenna? quello che mi ero fatto all'inizio che era sicuramente una squadra che poteva arrivare in fondo insieme a altre due o tre squadre qualcuno ha mollato un po' ma loro invece no è una squadra con dei valori tecnici molto importanti perché non è che li scopro io Guidone che giocava a Padova da me e lo vedevo giocare a Luganio e bene non scopro io Saporetti non scopro io Mendicino che ha giocato qui da voi Calì il difessore centrale è una squadra con i giovani forti presi da società professionistiche è una squadra un po' sulla farsa riga del Rimini come tipologia di gioco come tipologia di proporre calcio come tipologia di andare addosso all'avversario di voler sempre giocare la palla hai capito è una squadra che mi piace molto meno solida? oggi i punti Rimini ha perso un gol nelle ultime dieci partite sì sì la domanda è mia per questo perché Rimini ti dà l'idea di una fisionomia di un'identità di solidità non ho mai parlato degli arbitri però mancano tanto i gol che non ci hanno dato contro il ProRes ti dico se c'è la verità è vero che io sarei più sereno in questo momento però questo degli arbitri è una ferita se parli con me degli arbitri scopro non ho detto che hanno una colpa ho detto che mi dispiace io sono uno di quelli che non voglio neanche da quando gioco è sempre stata una mia caratteristica anche adesso a me non mi interessa niente di chi è sai quando si dice ti arbitra a me non me ne provo di meno io appena arrivo buongiorno buonasera me ne vado via non voglio perché senza degli arbitri non si può giocare a calcio dico un po' scopro l'acqua calda ma senza il direttore di gara non si può giocare a calcio quindi ci vuole il massimo rispetto ho soltanto detto che mi dispiace perché l'apparente di un metro mi sarebbe piaciuto perché sarebbe stato sarebbe stato una bella cosa detto questo e Rimini cioè in Ravenna noi abbiamo un profondo rispetto per questa squadra per questa città per questa struttura societaria perché stanno facendo qualcosa di straordinario sarebbero primi in qualsiasi altro girone è vero e ha giocatori veramente importanti così come Rimini sarebbe in fuga in un altro giro ma vincere dieci partite però siamo a una velocità stratosferica è vero che il Ravenna era favorito per arrivare alla fine in alto ma qui siamo in alto ad un livello in immaginabile per tutti e onestamente i valori però sono valori di una squadra che oltre avere delle doti tutte e due e io ci aggiungo anche un'altra squadra che a me piace moltissimo che è Lentigione è un bravo allenatore vero Lentigione? Lentigione è un grandissimo un bravissimo allenatore molto umile io l'ho anche sentito ci ha fatto i complimenti io li ho fatti a loro perché è una persona molto semplice e bravo molto bravo e ha delle idee anche molto interessanti infatti quando l'abbiamo studiato con il mister Gaburro eravamo molto compiaciuti del vedere come si muovevano quindi e loro hanno avuto il covid perché una cosa fondamentale che si diceva prima se loro non avessero avuto il covid io penso che sarebbe stata lì molto vicino lo dico perché ha dei giocatori molto 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 forti e mi piace come squadra perché hanno una struttura anche fisica e tecnica a livello del Rimini e a livello del Ravenna allora andiamo ad Otticaferri ricordando che in collaborazione proprio con la nostra trasmissione premeremo anche quest'anno il miglior under della prima squadra a due passi da Rimini a ospedaletto di Coriano puoi trovare l'Otticaferri che con cortesia e professionalità cercherà di soddisfare tutte le tue esigenze l'Otticaferri è da sempre vicina alla squadra biancorossa ti aspettiamo e forza Rimini Allora in chiusura ricordiamo che una partita si è giocata ha visto in campo una romagnola la samorese che ha perso 1-2 con il fanfull non abbiamo più tempo per far vedere le immagini che avevamo preparato perché è il momento del basket allora siamo in saluti grazie a Cesare Trevisani grazie e buonasera a tutti Francesco Pancari grazie a tutti Andrea Maniero grazie e buonasera il nostro Baio grazie e buonasera a tutti senza vignetta questa sera per il nostro direttore ti serve l'ispirazione salutiamo la nostra Donatella Filippi grazie Donatella grazie a voi e buon basket e primo tu e Baio una vignetta la farà anche a me personalizzata la vorrei Baio promesso su richiesta grazie Donatella e grazie a te Meri grazie a te Roberto e grazie a tutti noi tra poco parliamo di basket e anche in quel caso abbiamo il direttore sportivo di RBR ma insieme a tanti altri ospiti quindi restate con noi